Bene, nel precedente video siamo arrivati alle nostre antenate australopitecine, da queste antenate all'incirca 2 milioni e 800 mila anni fa si è evoluto il primo rappresentante del genere Homo, o meglio il primo che abbia lasciato resti fossili è l'Homo habilis, un grande camminatore che produceva strumenti in pietre e di legno e dall'Homo habilis, tramite una enorme varietà di specie, e si è alla fine arrivati all'Homo di Neandertal e all'Homo sapiens che hanno vissuto fino a poche migliaia di anni fa, fino a che purtroppo non siamo rimasti gli ultimi rappresentanti di questo che era un tempo, un florido gruppo, un florido genere ricco di numerosissime specie, purtroppo siamo rimasti solo noi finché ci siamo. Allora, l'Homo sapiens ha perfezionato la disciplina del tiro, riducendo al minimo le competenze muscolari necessarie per praticare queste discipline, e richiedendo invece un aumento, un miglioramento delle competenze mentali, delle capacità mentali. Infatti il tiro a segno, che sia con la pistola o con la carabina, richiede sostanzialmente di premere un bottone, ma a livello mentale richiede uno sforzo notevole sia in termini di rilassamento che di concentrazione e di respirazione. Il tiro con la carabina è nato come un'attività di tipo bellica e venatoria, richiede soprattutto quello del tiro con la lunga distanza di particolari competenze matematiche, e se andiamo a vedere il tiro praticato con l'artiglieria, il tiratore non vede neanche il bersaglio. Il bersaglio viene localizzato da una terza persona che manda le coordinate all'artigliere. L'artigliere, mediante calcoli matematici, stabilisce il punto d'impatto del proiettile. Stesso vale per il lancio di missili balistici, che non richiede praticamente nessuna competenza fisica per l'operatore, ma richiede invece competenze estremamente specifiche nell'ambito informatico e balistico, appunto, perché bisogna sicuramente calcolare le traiettorie degli ordigni. Ora, come ho detto, le discipline di tiro sono un argomento delicato perché fanno uso di armi e, anche se il tiro olimpionico ha ridotto tantissimo la capacità lesiva di questi oggetti, che rimangono in ogni caso oggetti pericolosi, in quanto un oggetto che spara un pallino di piombo a elevata velocità, si parla di centinaia di metri al secondo e che perfora la carta a 10-15 metri, sicuramente può fare danni anche al corpo umano. Allora, sicuramente il tiro olimpionico ha perso ogni scopo violento, però rimangono discipline in cui si fa uso di armi in dotazione alle forze dell'ordine e all'esercito, per esempio il tiro dinamico sportivo, il tiro dinamico in generale, ma comunque il tiro a segno con le armi da fuoco, questo purtroppo solleva dei problemi etici perché sono pur sempre strumenti molto pericolosi che possono arreccare gravidà nella persona ed è giusto che siano strumenti dati in mano a persone responsabili e a persone con competenze che si acquisiscono chiaramente con un corso di maneggio armi. La responsabilità invece non si può acquisire, è una dote e di solito viene certificata da un certificato medico del medico di famiglia che attesta che non si è in cura per malattie psichiatriche in corso o che se lo si è stati si è guariti. Allora io vi saluto e vi lascio al prossimo video che tratterà l'argomento del tiro a segno con pistola. A presto, arrivederci.